E' accaduto un fatto di cui la società civile, per i motivi legati alla pandemia, non si è accorta, ma la storia dell'ufologia è cambiata. Adesso la voglio ripercorrere molto velocemente nei capisaldi più importanti, ovviamente poi è estremamente più complessa, ma giusto per capire un po' le cose più importanti che sono accadute. Allora, l'ufologia moderna, spiegavo, nasce il 24 giugno del 1947, è una data simbolica perché gli extraterrestri, gli ischi volanti, già si vedevano addirittura dalla fine del 1800, quando ci furono grandi avvistamenti negli Stati Uniti. Ad esempio nel 1933 in Lombardia fu recuperato un disco volante che i fascisti Mussolini poi diede a Hitler e quando Hitler perse la guerra se lo portarono via gli americani. Io ho avuto modo di conoscere anche scienziati che hanno lavorato a retroingegnerizzare astronavi extraterrestri. ovviamente essendo io un ricercatore esperto del tema ho fatto domande di un certo tipo allo scienziato per capire se uno che mi pigliava per il sedere o se diceva la verità, diceva la verità. Quindi il 24 giugno del 1947 il civile Kenneth Arnold, un uomo d'affari che poteva permettersi un piccolo aereo privato, partecipò alla ricerca di un aereo scomparso nella catena montuosa dove c'è il monte Rainier nello stato di Washington e a un certo punto con la coda dell'occhio vede un brillio nel cielo e scorge una squadriglia di stranissimi oggetti a delta, nove, velocissimi. Ma non era la velocità che colpì Kenneth Arnold, era il fatto che volavano come quando tiriamo una pietra su uno specchio d'acqua, cioè volavano a balzelli. Quando lui scese a terra si ferma in una stazione di servizio, era eccitato per questo avvistamento, c'erano dei giornalisti, quindi in breve tempo la notizia fa il giro del mondo e quindi il termine disco volante diventa conosciuto a livello mondiale. Disco volante o piatto volante, flying saucer o flying disc. Il termine UFO, unidentified flying object, fu coniato da un ufficiale di cui parlerò, che fu a capo di una commissione militare di studio sugli UFO che disse non è elegante che un pilota militare dico ho visto un piatto che vola o un disco che vola e allora coniò il termine oggetto volante non identificato, ovni in italiano, francese e spagnolo. Infatti loro non sono esterofili e li chiamano ovni, noi UFO perché in quanto colonia americana gli inglesismi fanno parte della manipolazione culturale. Quindi il 24 giugno 1947 nasce, diciamo così, idealmente l'ufologia moderna. Ovviamente in quel momento non c'erano ricercatori UFO, non c'erano libri sugli UFO, riviste, non si sapeva nulla, ma la notizia dell'avvistamento di Arnold fa il giro del mondo anche perché già molte persone avevano visto questa aviazione non terrestre girovagare nei cieli del pianeta. Pochi giorni dopo, il 2 luglio, ben tre dischi volanti cadono nella zona di Roswell, zona comunque stiamo parlando di qualche decina di chilometri. La notizia viene pubblicata l'8 luglio del 1947, vedete questo è il Roswell Daily Record, il quotidiano della cittadina americana del New Mexico. La squadriglia della base di Roswell ha catturato un disco volante vicino a un ranch nella regione di Roswell. Poi la notizia verrà smentita da un alto generale americano di nome Ramey il giorno dopo che si precipita da Washington a negare tutto dicendo che si trattava di un pallone sonda. Grande menzogna perché in realtà gli americani già dai primi anni 40, esattamente dal 1941, avevano iniziato a recuperare dischi volanti, quindi avevano già istituito varie situazioni per mantenere il segreto. Oggi abbiamo il carteggio che è venuto fuori grazie alla legge di informazione sulla libertà di informazione, la Freedom of Information Act americana e abbiamo il carteggio tra il presidente Franklin Delano Roosevelt e George Marshall che era il capo di stato maggiore dell'epoca, il primo disco volante, ribadisco, nella zona di Los Angeles 1941, quindi agli inizi della seconda guerra mondiale, poi ne hanno recuperati tanti, vari. Ma questo fatto, il recupero di questo disco, uno si chiederebbe ma perché Roswell, cittadina piccola nel deserto del New Mexico, che ci fa? Perché a Roswell in quel momento c'era un fatto che si lega a questi drammatici eventi che accadono, quindi abbiamo visto, 8 luglio, il mese dopo, Hiroshima e Nagasaki, cioè inizia l'era nucleare bellica, che è costata, secondo Rosalie Bertel, una scienziata, il periodo in cui sono state esplose almeno 2.060 bombe atomiche nel nostro pianeta, test nucleari, è costato all'umanità fino all'anno 2000 almeno un miliardo e 300 milioni di morti, dovuti alle radiazioni che sono derivate dalla ricaduta. Se non fosse intervenuta l'aviazione extraterrestre a dragare le nuvole radioattive che venivano prese dalle velocissime correnti a getto che sono in quota, considerate che ci sono funghi atomici che sono arrivati fino a 60 chilometri d'altezza, dovuto alla enorme potenza di quelle bombe. Addirittura c'è la più potente bomba mai esplosa sulla Terra, che era una bomba all'idrogeno, quindi bomba A più bomba H, di 50 chilotoni, la bomba Tsar esplosa dai sovietici, che ha generato un terremoto che ha fatto tre volte il giro del pianeta e ha rischiato di spaccare la Terra in due. Ha sfondato porte e finestre fino a mille chilometri di distanza, cioè quasi che esplode a Bolzano e sfonda le finestre di Palermo. È stata una follia, grazie a Dio, inizialmente la potenza prevista era di 100 chilotoni, però gli scienziati, per dei motivi tecnici, la dimezzarono a 50. 100 chilotoni avrebbero spaccato il pianeta, perché nell'atomo di idrogeno è racchiusa la potenza più devastante di qualsiasi altro atomo, molto di più dell'atomo di uranio. Considerate poi che nelle bombe atomiche la quantità di materiale fissile che esplode è solo l'1%, perché con le temperature di milioni di gradi il resto del metallo, perché l'uranio è un metallo, viene fuso. Quindi se esplodesse il 100% del metallo di una bomba atomica, la vita sulla Terra sarebbe finita già da molto tempo. E l'aviazione extraterrestre, questo lo scoprì anche il console Alberto Perego, grazie alle sue entrature diplomatiche, hanno dragato queste gigantesche nubi radioattive per evitare la sterilizzazione dell'intero pianeta. Ma ovviamente ricaduta c'è stata e questa ha provocato un'immane catastrofe che questa scienziata ha fatto un calcolo per difetto di oltre 1 miliardo e 300 milioni di morti, oltre ovviamente a quello che viviamo, l'enorme aumento delle malattie degenerative, dei tumori, eccetera, eccetera. Quando io ero bambino a Barattili, quindi a due passi da qui, non era come oggi, che il tumore è quasi come il raffreddore. Cioè quasi ogni famiglia ha un malatto in casa. E quindi perché Roosevelt? Perché già dallo studio che fece il gruppo di Oppenheimer assieme al gruppo di Fermi, ragazzi di Via Panisperna, gli extraterrestri gironzolavano sopra i laboratori di Los Alamos e Roosevelt in quel momento era uno dei pochissimi aeroporti abilitati ad ospitare i bombardieri nucleari. E quindi gli extraterrestri pattugliavano e vigilavano cose che fanno attualmente quella zona lì. Questa è l'Enola Gay, questa è la firma di Paul Tibbetts, il pilota che sganciò la bomba su Hiroshima ed è parcheggiata a Roosevelt, foto dell'epoca. E questo è il gruppo bombardieri, il 509esimo stormo, che era a distanza nell'aeroporto di Roosevelt, vedete, zona desertica. Quindi Roosevelt era controllata da questa aviazione. Furono recuperati anche dei corpi, tranne uno. nel 1996 sono stato ospite assieme ad altri amici dei Lakota Sioux nel Dakota perché lo sciamano, che era anche il capo della tribù, ci invitò in quanto lui era il pronipote del gruppo di Pelle Rossa che riuscirono a salvare uno degli alieni precipitati a Roosevelt. Lo chiamarono l'anziano delle stelle e quando i militari arrivarono contarono i sedili e in relazione al numero dei sedili mancava un corpo. Quindi lo cercarono e per due anni questo gruppo di Sioux, l'anziano delle stelle, lo spostava di grotta in grotta perché i militari rastrellavano tutta la zona per cercare di catturare l'alieno scampato. Poi dopo due anni vennero i suoi amici e se lo portarono via e ci spiegò Stendinelk, alcia in piedi è il nome dello sciamano, del capo di questa tribù, li ha istruiti sulle conoscenze cosmiche. Siccome noi già partecipavamo all'epoca ai convegni internazionali, ci chiamarono per condividere questa informazione con noi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.